quando tu vedi la sovrintendenza dei beni archeologici che dice no i rolling stone al circo massimo non ci possono andare tu cosa dici c'è allora io ho capito che cosa tu hai la sovrintendenza io vorrei che tu mi dicesi di sparo certo che non ha senso perché non sono i rolling stone a far cadere pompe non è stato il concerto dei pink floyd a far cadere pompey il concerto dei pink floyd a pompey è stata una cosa meravigliosa per l'italia anche per il rock se qualcuno ma non è certo quello che danneggia il nostro patrimonio artistico